La scomparsa di Don Giovanni Nicolini è una grande perdita per la Chiesa, per la Chiesa di Bologna in particolare, per la sua storia e per il significato della sua testimonianza. Un uomo che ha saputo unire, ispirandosi alla piccola famiglia dell'Annunziata, fondata da Don Giuseppe Rossetti, ha saputo unire una rigorosa vita di preghiera impegnativa e un impegno per la Chiesa e per la povertà. Tante sue iniziative a favore dei più poveri, a cominciare dal carcere, tante cooperative, un'attività di accoglienza, di sensibilizzazione, ha coinvolto tanti anche nelle sue varie responsabilità, è stato assistente del Dio Cesano dell'Azione Cattolica, è stato vicario episcopale per la carità con il Cardinal Biffi a lungo. questi due tratti sono indispensabili unirli assieme, forse lui è più noto per questa intensa attività caritativa, intelligente, attenta alle cause e non soltanto alle conseguenze, ad accogliere la povertà, stimolante per attivare dei progetti e quindi anche per un'attività politica del senso più alto e migliore del termine, come per certi versi la Fratelli Tutti con l'amore politico di Papa Francesco ci indica. Ma sempre in una vita rigorosa di preghiera, vissuta con i suoi fratelli, con le sue sorelle, della piccola famiglia, a cui va anche il nostro pensiero, la nostra gratitudine, un uomo che ha saputo unire molta intelligenza e molta riflessione ad un'attenzione all'incontro con tutti, a sapere parlare con tutti. Davvero un grande grazie per questo dono ed anche per accogliere il testimone che lui ci consegna.